Grazie a Lidia Tilotta Cionfilo che collega Lampedusa a Caltagirone, 368 candele della speranza, tanti quanti furono i morti per ricordare le vittime del naufragio avvenuto sulle coste siciliane il 3 ottobre dell'anno scorso. Teatro dell'evento promosso dall'associazione Arci e Mari dal Colune, la monumentale Scala di Santa Maria del Monte a Caltagirone. Durante la giornata anche una commemorazione interreligiosa, un teatro forum, un workshop interculturale e anche un'assemblea pubblica su memoria e accoglienza. Grazie a tutti.